Il gruppo Europa dell'Iceo Salesiano Balsalice, al fine di presentare ciò che è stato svolto durante l'anno scolastico 2021-2022, ha deciso di preparare un video riguardante l'Unione Europea, in particolare sulle sue sei istituzioni. Il Parlamento Europeo è nato il 10 settembre del 1952 ed è l'unica istituzione dell'Unione Europea direttamente eletta. Ha tre poteri, quello legislativo, di bilancio e di controllo ed elabora e discute con la Banca Centrale. Ci sono 705 deputati che sono scelti dal corpo elettorale di tutti i stati membri e i deputati sono eletti per un periodo di 5 anni. Ogni paese deve avere almeno 6 rappresentanti e massimo 96. Ci sono tre sedi, quella di Strasburgo che è la sede principale, Bruxelles dove si svolgono le riunioni delle commissioni e quella di Lussemburgo. E la Presidente è Roberta Mezzola. Il Consiglio Europeo, nato originariamente come sede di incontri informali tra capi di Stato e di governo degli stati membri dell'Unione Europea, nel 74 acquisisce nel 92 uno status e un ruolo formale e che definisce un orientamento politico generale. Nel 2009 diventa a tutti gli effetti parte delle sette istituzioni dell'Unione Europea. Attualmente ci si riuniscono i capi di Stato e di governo, il Presidente della Commissione Europea e l'altro rappresentante per gli affari esteri. Oltre a quindi definire l'orientamento politico, nomina ed eleggia persone per cariche importanti nell'Unione Europea, come nell'ABC o nella Commissione. Nonostante sia composta dai membri più importanti di ogni paese, avrebbe più potere decisionale se non ci fosse quella continua rotazione dei membri data dalle elezioni nei singoli paesi. Il Consiglio dell'Unione Europea ha sede principale a Bruxelles e rappresenta i governi dei 27 stati membri dell'Unione Europea. Il Consiglio, insieme al Parlamento Europeo, esercita la funzione legislativa, coordina le politiche economiche generale degli stati membri, definisce la politica estera e di sicurezza comune e conclude, a nome dell'Unione, accordi internazionali. I consigli principali sono Consiglio Affari Generali, Consiglio Affari Esteri, Affari Economici e Finanziari, Consiglio Giustizia e Affari Interni. La Commissione Europea contribuisce a definire la strategia globale dell'Unione Europea, propone nuovi atti normativi e politici, ne sorveglie l'attuazione e gestisce il bilancio dell'Unione Europea. Ha il potere legislativo e negozia gli accordi internazionali e le decisioni che vengono prese vengono poi in seguito controllate dal Parlamento. È composta da delegati e a ciascuno di essi richiesta la massima indipendenza decisionale dal Governo nazionale che lo ha indicato. Infine, il Presidente è Ursula von der Leyen. La Corte di Giustizia, con sede in Lussemburgo, è l'organo che interpreta il diritto dell'Unione Europea in modo equo tra tutti i Paesi membri di rimendo nelle controversie. La Corte di Giustizia, composta da 11 avvocati generali e un giudice per ogni Paese, è divisa in due sezioni. Il Tribunale, che giudica i ricorsi dei singoli o da imprese, e la Corte, che si occupa dei ricorsi dei singoli Stati contro l'Unione Europea. Può inoltre, in certe circostanze, intraprendere un'azione legale contro un'istituzione se un singolo cittadino, un'impresa o un'organizzazione ritiene che abbia volato i suoi diritti. La Banca Centrale Europea, a sede a Francoforte, ne fanno parte le banche centrali nazionali di tutti i 19 Paesi dell'area dell'Euro. Le sue funzioni sono definire e attuare la politica monetaria, svolgere le operazioni sui scambi, detenere e gestire le riserve ufficiali dei Paesi dell'Euro e promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. Gli strumenti a sua disposizione sono la fissazione dei tassi di interesse, le operazioni di mercato aperto, le operazioni su iniziativa delle controparti e le modifiche del coefficiente di riserva obbligatorio delle banche. È organizzata in comitato esecutivo, consiglio direttivo, consiglio generale e consiglio di vigilanza.